Il ventesimo minuto del primo tempo contro il Pescara, gioco interrotto, tempestivo intervento dei sanitari che erano presenti allo stadio, che gli hanno praticato un massaggio cardiaco. Il giocatore è stato portato in ospedale con un'ambulanza, a quanto pare si viene a sapere che era già in arresto cardiaco. Questi sono i momenti, lo vedete in basso nel vostro teleschermo del giocatore che si è accasciato al suolo, i compagni in lacrime come potete immaginare, sono rientrati negli spogliatoi, anche un tifoso si è sentito male in curva. Durante il trasporto verso l'ospedale Morosini era in arresto cardiaco, si apprende da fonti sanitarie questi drammatici momenti subito successivi a questo malore avvenuto in campo. Poi lo ripetiamo durante la partita Pescara-Livorno.